L'unica cosa che chiedo, visto che ricordiamo che sulla testa del governo italiano c'è la spada di Damocle di una procedura di infrazione da parte dell'Europa perché il nostro paese non identifica, non fotosegnala tutti quelli che sbaccano. Conferma che su 350 mila nelle nostre strutture... È chiusa perché sono stati identificati tutti, mi creda. Sono gli stessi dati che lei ha preso dal Ministro. Conferma però che solo 113 mila sono quelli che sono materialmente oggi accolti nelle strutture tra Sprara, Accoglienza Diffusa e Cara e che gli altri 200 mila che sono sbarcati che fine hanno fatto. Ma scusi, il sistema funziona talmente bene che l'Europa ha imposto al nostro paese gli hotspot, giusto? Sono quattro, più un via di definizione e la cartina... Non al nostro paese, non al nostro paese, a tutti i paesi di prima ingresso. A tutti i paesi che dovrebbero controllare le frontiere esterne Italia e Grecia. Tant'è che Schengen sta in piedi, lo dicevo prima, proprio perché alla libera circolazione nelle frontiere interne deve conseguire il controllo delle frontiere esterne. Il controllo delle frontiere esterne che ricade in modo particolare su Italia e Grecia non viene fatto. Inevitabilmente i paesi che tutti sappiamo, Austria, Germania, Francia... Lei insiste a dire che non viene fatta, io insisto a dire che abbiamo registrato tutte le persone che sono sbarcate sul nostro territorio.